Primo, formazioni e fondazioni. Le nostre città sono risorte nel Medioevo grazie a formazioni di tipo secolare. Infatti le prime assemblee cittadine erano del tutto indipendenti dalla Chiesa. Sono le prime germinazioni degli stati moderni. Proiettando indietro realtà nostre si è pensato che anche Roma Antica fosse stata non fondata tramite culti e riti ma laicamente formata mandando completamente all'aria tutta la leggenda di Romolo. Ma questa idea di una Roma secolare nata nel Rinascimento e sviluppatasi dall'illuminismo è del tutto antistorica. La cosa importante da capire è che nelle società antiche non esiste un atteggiamento laico e secolare. la religione e la politica sono intimamente unite per cui le città antiche sono mezze città, cose pubbliche e mezze chiese in qualche misura. Quindi per qualsiasi intrapresa, per qualsiasi fondazione, per qualsiasi grande azione ci vuole l'intervento degli dèi, ci vogliono i culti, ci vogliono i riti. Allora finché Roma per esempio è stato un piccolo potere si è contentato dei suoi piccoli miti originari. Ma a un certo punto questo non è più bastato, perché l'ambizione di Roma, il potere di Roma, per esempio nel Lazio, era tale che bisognava inventarsi qualche altra cosa. 2. Piccolo mondo antico. Tutti gli storici di Roma hanno datato la fondazione della città intorno al 750 a.C., vari secoli dopo la distruzione di Troia. E l'hanno attribuita tutti a Romolo. Romolo era un trovatello, considerato però rampollo dei Silvi, cioè della famiglia reale di Alba, e Alba era la madrepatria originale dei latini. Tutti gli storici, ma con una eccezione, Sallustio. Sallustio ha ripreso l'opinione dei greci. Infatti i greci hanno per lungo tempo, direi ostinatamente, ignorato la saga locale di Romolo, Roma era un luogo dell'estremo occidente poco conosciuta, che però è l'unica realmente autentica. In questa saga, Romulea, Alba svolge un ruolo dominante. Lì vengono concepiti Romolo e Remo, figli di Rea Silvia e di Marte. Lì Amulio, prozio di Romolo, decide di esporre i gemelli sul Tevere. E lì Romolo ucciderà Amulio, rimettendo sul trono il nonno numitore. Quindi, la saga di Romolo risale agli anni 750-650 avanti Cristo, cioè tra la fondazione di Roma e la distruzione di Alba. E' questo il piccolo mondo antico dei primi tre re fondatori e perfezionatori della città, Romolo, Numa e Tullo Stiglio. Ma poteva Roma essere fondato da un figlio di nessuno? No. Infatti, egli doveva avere una divina e nobile prosapie. Ma quale? Oltre che del nonno re Numa e del bisnonno re Proca, Romolo discendeva dagli antichissimi re divini del Lazio. latino, identificato con una scrofa con trenta maialini che alludono ai trenta populi albenses fondati da lui. Fauno legato al lupe al capro, luperco vuol dire lupe capro, con fauna lupa. E poi, in cima, il picco, il picchio. E picco era figlio del dio Marte, rappresentato da Aste. Insomma, pare di essere fra i totem degli aborigeni australiani. Nessun eroe greco e troiano è ancora in vista. Tre. Grande mondo in vista. Già dagli anni 725-700 a.C., quindi siamo alla fine dell'VIII secolo, appaiono nell'Italia tirrenica le prime immagini di eroi greci e troiani, Eracle, Ulisse e Nea. Nea è un profumo. È uno di quelli che arrivano con i barconi ancora oggi in Sicilia. solo che è del ramo cadetto della famiglia reale di Troia, l'unico che avrà un futuro. Gli altri sono tutti stati uccisi. Priamo è stato ucciso, Ettare è stato ucciso. Quindi non c'è più nulla né di Troia, ma c'è lui, Enea, c'è suo padre Anchise, cieco, c'è suo figlio Ascanio, ma soprattutto Anchise porta sulla testa una cesta e dentro la cesta c'è qualcosa di miracoloso che farà sì che Troia potrà essere trapiantata in Italia. E cioè i culti del palazzo reale di Priamo sono stati affidati a lui, il fuoco eterno di Vesta, e i penati, gli dèi del Penus, cioè della dispensa domestica. Ad inventare questi orditi narrativi di Ulisse e di Enea nell'Italia terrenica sono stati i mercanti dell'Eubea. L'Eubea è un'isola greca antistante alla Beozia, che trafficavano tra Oriente e l'estremo Occidente. Anche i viaggi di questi eroi, come Ulisse e Enea, ricalcano le rotte di quei mercanti. Ed essi, i mercanti, miravano a grecizzare e a troianizzare gli indigeni che potevano interessare ai loro traffici. Era quasi che prima li conquistavano miticamente e poi li conquistavano tramite i loro traffici. E questo esempio di troianizzare verrà seguito nel V secolo a.C. da Atene. Infatti, gli storici attici, come l'anico, ritenevano che Roma fosse stata fondata. Niente proprio di meno che da Enea. Bestemmia per i romani. Mai un romano avrebbe accettato una cosa del genere. Distrutta Alba, come abbiamo visto negli anni 675-650, tutto cambia nel Lazio. A causa di Roma, che ha distrutto Alba. La madrepatria dei latini viene spostata dall'interno di Alba sulla costa, all'Avinium, che poco dopo viene fondata come città. lo indicano le sue mura degli inizi del VII secolo a.C. Ecco là le mura in bassa destra. Quattro. Grande mondo arrivato. Dunque, i mercanti greci raccontavano agli indigeni, direi in anteprima, le imprese degli eroi poi cantati dei poemi epici intitolati Distruzione di Troia, Nostoi, viaggi di ritorno. Un secolo dopo Arctino, quindi intorno al 600-550, il siciliano Stesicoro ha scritto una sua Distruzione di Troia. Il poema, ahimè, è andato perduto, ma i suoi episodi salienti figurano in un rilievo che proviene probabilmente dal Sacrarium Ie Gentis Iulie a Boville, un sostituto dell'alba distrutta. In tre scene del rilievo compare Enea e nell'ultima, in bassa destra, lo vediamo salpare per l'Occidente, l'Italia, con il padre Anchise e il figlio Ascanio. Anchise, vedete, è portato in spalla di Nea, perché è cieco, è stato accecato dai fulmini di Zeus. E regge, lo vedete, la freccia a destra, una cesta con dentro le cose sacre di Alba, di Troia. E tra la fine del IV e gli inizi del III secolo finalmente due storici precisano il luogo e circostanza dello sbarco di Enea nel Lazio. Per Timeo, altro siciliano, esso avviene all'Avinium. Cinque, primo e secondo falso all'Avinium. Qui incomincia il giallo. Un secolo dopo la sepoltura del re fondatore di Lavinio, il tumulo è stato violato e l'atto sommamente irreligioso, religioso in latino vuol dire attenente al mondo funerario, è stato espiato libando vino, cioè versando, offrendo vino. I due vasi per libare sono stati poi inseriti nella tomba, li vedete a sinistra, e sono essi a datare il fatto straordinario intorno al 575 a.C., un vero evento. L'evento va inquadrato probabilmente in una rifondazione di Lavinio analoga a Ecoeva a quella formidabile attuato da Servio Tullio a Roma. è stato nel momento della violazione del tumulo che l'identità del re sepolto è stata alterata e per questo non sappiamo più il suo nome. Così il fondatore reale di Lavinio è stato risucchiato come da un vortice nei tempi della distruzione di Troia ed è stato identificato con Enea. Così l'eroe troiano è diventato il falso fondatore di Lavinio e suo figlio Ascanio il falso fondatore di Abba. Gli storici Livi e Donigi conoscevano a Lavinio una tomba di Enea assimilato al dio patrono del luogo Indices Numicus Numicus è il fiume di Lavinio. Questa tomba delle fonti letterarie può essere identificata con il nostro tumulo principesco. Enea fondatore di Lavinio e Avo dei Latini è confermato poi da un'iscrizione della fine del IV secolo in cui l'eroe è definito l'are quindi antenato divinizzato. Dunque Enea era venerato a Lavinio vogliamo usare le parole dell'Eneide portato alle stelle. Il che non avviene a Roma per la presenza a Roma di Romolo assimilata a Quirino è un altro mondo. Per Che Enea potesse avere una moglie locale Lavinia figlia di Latino è una terra e un abitato Lavinium diventando così capostipite dei Latini serviva un re indigeno capace di accoglierlo. Così Latino è stato spostato dall'interno di Alba era un re di Alba lui originariamente sulla costa perché naturalmente ne arriva sulla costa in una in un luogo totalmente inventato chiamato Laurentum 6 terzo falso a Roma a determinare la fortuna di Lavinio come madrepatria dei Latini era stata Roma che Alba aveva distrutto. Se ne deduce che l'innesto di Enea nel Lazio come capostipite anche di Romolo è stato sostenuto in primo luogo da questa città ormai egemone nel Lazio. questa Roma diventa molto potente sotto i Tarquini che erano dei curiosi personaggi perché erano dei principi di sangue reale di Corinto città greca discendevano da Eracle quindi diciamo che erano nobilissimi in più avevano sposato delle signore etrusche in più erano re di Roma quindi diciamo erano dei cosmopoliti siamo nel sesto secolo avanti Cristo e l'idea di questi re divini del Lazio totem perché sono un lupo un picchio un maiale non funzionavano più e allora bisognava inserire qualcosa di molto più magniloquente di più famoso appunto Enea appare pertanto del tutto verosimile che nel sesto secolo avanti Cristo la saga di Romolo sia stata falsificando falsificata innestandovi appunto Enea si trattava di una inserzione molto astuta perché Enea non aboliva i vetusti picofauno e latino tanto è vero che Enea sposa la figlia di latino lui si imparenta con loro e astuta perché non sostituiva Romolo come fondatore di Roma almeno presso i romani scontentando i greci che preferivano Enea settimo quarto falso e ultimo a Roma gli Iuli li abbiamo nominati erano una gens che si riteneva di origine albana per questo il suo sacrarium era boville un sostituto dell'alba distrutta Cesare era un Iulius ma lo era anche suo figlio adottivo Ottaviano futuro Augusto che si era proposto di rifondare Roma mezzo millennio dopo Servio Tullio trasformando la Repubblica in Principato e dando un nuovo ordine ai secoli a venire era andato in una casa ad abitare in una casa che sembra la reggia di Pergamo sopra il Lupercal lo vedete lì sotto e davanti alla capanna di Romolo erano i luoghi dove era stata fondata la prima Roma e aveva anche accettato di chiamarsi Augusto che vuol dire il Benedetto da Giove cioè l'inaugurato e Romolo era un re inaugurato ma rifiuta il titolo di Romolo temeva infatti moltissississimo di apparire come un potenziale re infatti a causa dell'aspirazione al regno che Cesare era stato trucidato aveva l'esempio di suo padre morto ammazzato per aver aspirato al regno quindi Augusto ha scelto di essere non un rex bestemmia a Roma ma un princeps cioè il primo dei senatori ed essendo primo dei senatori era anche il primo di tutti i cittadini ma questo essere primo della politica non gli bastava voleva essere anche primo della religione e quindi pontefice massimo carica che ottiene nel 12 avanti Cristo mentre il titolo di Augusto ce l'ha avuto nel 27 avanti Cristo ma non gli piaceva tuttavia di essere un pontefice massimo qualsiasi voleva essere un pontefice massimo per diritto di famiglia serviva a ciò una figura del passato più lontano capace di prefigurare il suo pontificato massimo specialissimo così Augusto ha riesumato un clamoroso falso creato da Cesare un certo Iulus avo dei Iuli e primo pontefice massimo di Alba a questo punto lui era discendente dal più antico pontefice massimo e quindi pontefice per diritto di famiglia otto manifesto del foro di Augusto e visione dell'Eneide e passiamo ora all'Eneide qui è descritto il viaggio di Enea da Troia ecco Troia vedete l'isola di Tenedo dietro cui si erano nascoste le navi greche ed ecco in rosso la Troia Omerica da Troia a Roma vedete è un viaggio complesso dove abbiamo messo a confronto il viaggio di Enea descritto dall'Eneide e il viaggio di Enea descritto da Dionigi che non prevede come vedete lo scarrocciamento a Cartagine Augusto in quest'Eneide figura come il fondatore di un secolo d'oro un nuovo secolo d'oro non quello di Saturno ma quello di Giove è il tempo di un impero senza limiti Giove dice a Venere stai tranquillo imperium sine fine io ho concesso a Roma un impero senza fine senza limiti di tempo e di spazio e quindi eterno in cui regna sovrana la pace perché essendo senza confini se non quelli dell'oceano non ci sono nemici esterni e essendo il potere concentrato nel princeps che è anche imperator cioè lui che comanda l'esercito non ci sono più nemici interni tutti i nemici interni sono stati vinti ultimo Antonio nella battaglia di Azio del 31 e poi nella conquista di Alessandria del 30 beh ci sono due cose che rappresentano questa colossale ideologia messa in campo da Augusto uno è il foro di Augusto stesso e lì è proprio propaganda diretta dell'imperatore poi c'è la visione di Virgilio che è questa visione di un secolo d'oro che ritorna ma non è più sotto il segno di Saturno ma è sotto il segno di Giove ed è il secolo di un impero universale che quindi non avendo spazi perché non ha confini non ha nemici esterni e quindi ha sempre la pace e non ha nemmeno nemici interni perché il principe ha concentrato su di sé il potere e quindi essendo principe e imperator quindi controllando l'esercito può garantire la pace anche all'interno quindi un imperium sine fine naturalmente così non è stato perché nel 410 Alarico occupa Roma e quindi però però la decadenza dell'impero che era lì perché l'impero stava per sfasciarsi è stata posticipata di 500 anni 9 ed è l'ultimo capitolo un programma universale nel foro di Augusta e nell'aneide il tempo è annullato in una colossale riepilogo di un passato che prefigura il futuro in questo Virgilio sembra la Bibbia dove ci sono le grandi profezie e di un futuro che modifica il passato a suo piacimento i famosi i quattro falsi e su questo fondo Augusto appare come come un troiano che trionfa che è un paradosso perché discende dal vinto e profugo Enea era come se Enea si fosse reincarnato in Augusto Salvatore per vendicarsi dei greci distruttori di Troia e naturalmente Augusto che comandava l'Occidente aveva vinto l'Oriente Greco aveva sottomesso Antonio che era come dire il capo dell'Oriente Greco Troia era risorta in Italia la terra promessa grazie alla traslazione di Vesta dei Penates del Palladium che valevano molto di più di case templi e mura della patria perduta quelle si potevano perdere ma Enea era salvo e Vesta era ancora accesa questa Troia risorta conquista un angolino del Lazio grazie a Enea che sposa Lavinia e ottiene un pezzo di terra e grazie anche al fatto che uccide il rivale Turno che è il primo fidanzato di Lavinio scartato perché fa un addetto a latino sposala con lo straniero e questo conquista di quest'angolino è visto come un prodomo dell'impero senza fine e della nuova età dell'oro voluti da Giove tutte cose che Troia mai aveva avuto quindi si va nel passato si rievoca Troia si rievoca l'età dell'oro ma questa età dell'oro e questa nuova Troia sono perfetti mentre la Troia e la Primetra dell'oro erano imperfetti ma questo mondo perfetto e imperituro un vero regno degli dèi in terra non coincideva affatto con tutta la terra e con tutti i tempi del pianeta ed infatti nel 410 dopo Cristo Alarico prende Roma prefigurando la caduta dell'impero e così turno lui l'umiliato lo sconfitto e l'ucciso è così che termina l'Eneide con Enea che uccide turno ha trovato il suo vendicatore finale è un'idea di Oden di Oden